Una parte del vasto progetto di ripascimento che interesserà alla fine tutto, il litorale della provincia di Salerno, è stata già realizzata. Ora si avvia un altro step a Salerno città. Ecco come è oggi e come sarà alla fine dei lavori. Salerno è una città di mare, è una città sul mare e deve recuperare per intero questa sua prerogativa. Abbiamo iniziato con la spiaggia di Santa Teresa che credo sia esemplare dal punto di vista di questo ragionamento. È divenuto un luogo dove si fruisce liberamente del mare con una particolare predisposizione evocativa, sarei per dire romantica. Ma ora noi, dopo aver fatto il primo tratto di ripascimento del litorale, le spiagge sono cresciute nella zona orientale di circa 80 metri, facciamo questo secondo pezzo che oggi vede alla consegna dei lavori, che parte dall'ex Preventorio Marino e arriva fino al polo nautico. Ripascimento del litorale, intercettazione delle aste torrentizie che verranno portate a largo come sbocchi. Dicevamo di passi successivi e quello che riguarderà il lungomare del centro cittadino sarà il più impattante dal punto di vista della trasformazione. E non solo per le spiagge, ma anche, come aveva previsto del resto Boigas, per la realizzazione di un pennello alla cui estremità sarà realizzato un ristorante in vetro da cui chi pranzerà vedrà la città dal mare. Gli altri passi sono a portata di mano. Per l'altro progetto, già c'è il finanziamento, dobbiamo fare la gara. Per l'ambito numero uno, che è l'ambito più cospicuo ed emozionante, che riguarda il proseguo del ragionamento della spiaggia di Santa Teresa ad andare verso niente, che di fatto ridisegnerà insieme a queste altre opere il waterfront del Comune di Salerno, sono in corso i finanziamenti per la progettazione e poi per la gara. Un progetto che vuole rendere ancora più attrattiva in chiave turistica Salerno, un progetto che per completarsi ha bisogno di infrastrutture, prima fra tutte l'aeroporto. Un altro porto che sta partendo e che il Covid ci ha bloccato è l'aeroporto di Ponte Cagnano, Salerno-Ponte Cagnano. Ora bisogna rimettersi in movimento perché è tutto pronto, è tutto fatto. Addirittura l'accordo con CESAC, ora bisogna che si perfezionino i dettagli e si vada avanti anche su quest'altra ipotesi.